ciao ragazzi il nuovo video unboxing è una cosa particolare ancora non pulito qua i vestiti dell'ultimo unboxing di erisera vabbè si era fatto tardi avevo un po' di sonno giustamente questo video unboxing misterioso che viene dalla Spagna non vi sto scherzando è un pillo ma non ho capito ahhh si un filo praticamente sto filo per la ps4 l'ho preso della marca ama si un filo di buona fattura pagato 6 euro si vede il filo che è buono davvero molto ma molto lungo sto cavo vabbè ragazzi al prossimo video